Non so se ci sono, spero di sì, anche rappresentanti dell'opposizione, però si preparino, ma prima di tre anni, due mesi, il Governo non lo vedono, perché noi abbiamo tutta l'intenzione di andare avanti per tutti e cinque gli anni che gli italiani ci hanno chiesto di andare avanti e penso che avere lo stesso Ministro dei Trasporti per cinque anni già di per sé stesso sia rivoluzionario, perché alcune piccole o grandi opere, io vedo chi c'era prima di me nel mandato precedente, Toninelli, Lade Micheli, Giovannini, io immagino mi metto nelle parti di un imprenditore, di un fondo di investimento, di un'associazione che una volta all'anno doveva tornare nello stesso ufficio ripetendo la stessa cosa, poi voi vi occupate di un settore che non è esattamente alla portata di tutti. Quando fai il tavolo sui trasporti eccezionali devi anche capire di che cosa stai parlando, quando cerchi di portare a termine la variante in Valtrompia, sti benedetti sette chilometri scavando sotto i quali si trova di tutto, devi anche capire di che cosa stai parlando e devi avere il tempo per andare avanti. Quindi conto che una volta all'anno festeggeremo il 51esimo anno con la valigia, il 52esimo anno con la valigia, il 53esimo anno con la valigia e poi nel 2027 faremo il conto di tutto quello che insieme avremo portato a casa e penso che sarà tanta roba.